Se vuoi allenare in maniera completa il gran pettorale ricordati che dare sempre gli stessi stimoli non è produttivo quindi fare sempre un solo e unico esercizio per allenare questo muscolo non ti porterà nel tempo a dare tutto quell'insieme di stimoli e quella varietà di stimoli che ti permettono di migliorare per questo cerca di sfruttare tutte le linee di spinta che ho spiegato nell'articolo quindi la spinta orizzontale, la spinta verticale e la spinta verso il basso come nel caso dei dip alle parallele per dare degli stimoli sempre vari e uno stimolo sempre completo a questo muscolo puoi utilizzare tutti gli stimoli nella stessa scheda di allenamento oppure alternarli ciclicamente in modo da dare anche una progressione dello stimolo che va a crescere nel tempo usa questi consigli per allenare quindi il petto in maniera completa ricordandoti che per migliorare devi migliorare nei parametri allenanti quindi deve crescere la forza, deve crescere il volume che riesci a fare in allenamento spero che questi consigli ti siano stati utili ci vediamo al prossimo video, ciao!